Sarebbero due o in altri casi tre segnalati come giovani o giovanissimi, ladri avvistati in questi giorni da alcuni cittadini di Foligno. Ladri che approfittando dell'assenza degli inquilini svaliggiano indisturbati case e appartamenti in pieno giorno sia di mattina che nel pomeriggio. L'allarme topi d'appartamento riguarda diverse zone della città, da via Alessandro Volta alla zona tra il cimitero e San Teraclio, passando per via Sicilia e via Trentino in zona Sportella Marini fino alla vicina via Puglie. Blitz segnalati alle 18 di sera ma anche alle 10.30 di mattina in palazzine abitate da numerosi inquilini e in diversi casi c'è chi presente al momento del tentato furto ha visto i giovani ladri fuggire. Blitz ladreschi segnalati anche in piena notte come nel caso di via Puglie dove all'incrocio con via Basilicata in una casa il cane è cominciato ad abbaiare e il proprietario si è svegliato mettendo in fuga i giovani già entrati nel giardino. L'allarme corre sul filo del web e i folignati scambiandosi dettagli e informazioni condividono i loro timori passando al contrattacco su Facebook. Infatti molti di loro nel gruppo segnalazioni si propongono di comunicare oltre che ai carabinieri anche alla rete di amici virtuali eventuali dettagli che possano aiutare ad identificare i presunti ladri postando modello, colore e targa delle auto sospette. Un allarme è quello dei topi d'appartamento in orario diurno che segue l'emergenza furti di alcuni giorni fa quando nel mirino dei ladri erano finiti dapprima i garage, poi le auto rubate fra Foligno in particolare in periferia e in zona sterpete e Spello nella frazione di Capitalloreto dove oltre ad essere stato rubato un SUV era stata ritrovata l'utilitaria rubata proprio a Foligno. Un problema già all'attenzione del comando dei carabinieri di Foligno che la scorsa settimana aveva annunciato il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio.